partiamo a registrare ok quindi direi che possiamo iniziare oggi come sapete già ne avete già visto dal messaggio su Slack parliamo di JavaScript ma questa volta è calato nel contesto del browser quindi come sempre cercheremo di usare un approccio un po' pratico nel senso che vediamo alcuni aspetti teorici e poi proviamo un pochettino a vedere come far a usarlo direttamente nel browser con un esempio e vediamo se alla fine riusciamo a fare anche l'ultima parte che è quella più di JavaScript teorico cioè su come funziona la parola chiave DIS che è un po' peculiare in JavaScript bisogna assolutamente conoscere quelle direi poche ma importanti nozioni fondamentali perché poi altrimenti non ci ritroviamo soprattutto quando usiamo che sono le arrow function e così via perché il meccanismo è un po' diverso a seconda del tipo di sintassi che andiamo a usare e appunto vedremo questa cosa alla fine o eventualmente lascerò un piccolo video che spiega questa cosa ma che sarà relativamente breve ok quindi partiamo parlando di JavaScript nel browser e quindi andremo a vedere tutti gli aspetti relativi all'uso di JavaScript nel browser e quindi come interagire con l'ambiente nel quale andiamo a sviluppare l'applicazione web quindi dobbiamo assolutamente impararlo perché appunto JavaScript ci serve fondamentalmente per programmare nel browser quindi prima cosa come facciamo a caricare un programma all'interno del browser bene esiste un tag apposta che si chiama script che ci consente di inserire o direttamente del codice quindi codice JavaScript tra il tag aperto e chiuso oppure caricare un file ovviamente noi preferiremo sempre la seconda opzione per una questione di facilità di gestione del codice non vogliamo mischiare il codice HTML con il resto come abbiamo fatto l'altra volta c'è il foglio di stile separato c'è il programma separato e quindi useremo sempre questa sintassi in cui diciamo dove andare a prendere la risorsa quindi un percorso assoluto relativo di solito è relativo perché è sul nostro stesso server web per andare a caricare la risorsa tra l'altro l'abbiamo già intravisto questo quando abbiamo fatto copia e incolla dell'esempio di bootstrap che alla fine va a caricare il codice JavaScript interno della sua libreria per andare a fornire certe funzionalità quindi abbiamo l'attributo src in cui andiamo a mettere il nome della risorsa si potrebbe anche scrivere type tag JavaScript ma oramai al default non è più necessario quindi usiamo pure le sintassi più semplici ecco la cosa da sapere è che nel momento in cui il browser incontra questo tag il browser si ferma carica il codice JavaScript quindi se è una risorsa di rete va a scaricarla e aspetta e poi immediatamente la esegue e poi continua il processamento del codice HTML quindi tutte le volte che vede un tag script questo tag fa sì che il browser si fermi carichi la risorsa, la esegua e va davanti e l'output di questa risorsa tra l'altro viene sostituito al tag script lo dico così per completezza ma in realtà non useremo mai questo sistema cioè non faremo mai output all'interno del nostro codice JavaScript perché altrimenti diciamo pasticciamo solo nella struttura HTML dove andiamo a mettere il tag script? bene, si può mettere in due posizioni sapete che i documenti HTML, l'abbiamo detto l'altra volta sono divisi in due sezioni importanti la parte head, quella di sopra dove non c'è diciamo codice della struttura della pagina ma ci sono meta informazioni titolo, keyword eccetera eccetera oppure la parte body che contiene invece la struttura semantica della pagina nella parte head diciamo questo è il modo classico da libro di test appunto per caricare lo script ma è anche il modo più inefficiente quindi lo citiamo per completezza ma non sarà il modo in cui lo utilizziamo perché appunto succede quello che dicevamo prima molto inefficiente cioè io sto caricando una pagina pensate non mi è ancora arrivato neanche il contenuto mi fermo, vado a caricare la risorsa devo eseguirla e poi procedo tra l'altro è anche sconveniente perché appunto non avendo caricato niente del contenuto della pagina non posso lavorare sul DOM nel senso il DOM è vuoto il DOM è il document object model cioè la rappresentazione in memoria della struttura della pagina e quindi diciamo sì posso caricare delle funzioni delle definizioni e così via ma di fatto non posso andare a lavorare sulla pagina quindi quale potrebbe essere l'alternativa? bene subito prima della fine del documento che è un po' più efficiente della soluzione precedente perché? perché praticamente il documento viene tutto processato e poi subito diciamo prima di chiudere gli ultimi tag vado a caricare il codice javascript e succede esattamente come prima che il browser si ferma carica il codice e lo esegue però almeno questa volta ho il DOM caricato nella sua praticamente completezza e quindi volendo posso lavorare sul DOM quindi siamo nei due casi in due situazioni come quelle illustrate qui quindi diciamo qui trascuriamo head e basta come abbiamo visto prima script vedremo tra un istante poi cosa sono queste cose però il browser carica il documento HTML incontra il tag script si ferma si ferma perché carica lo script lo esegue e poi riprende se noi lo mettiamo in fondo diciamo che abbiamo finito di fare il parsing tutto l'HTML quindi il browser ha finito di interpretare l'HTML quindi anche il body la struttura e poi attende di caricare lo script e lo esegue questo script in body è alla fine quindi siamo passati da una situazione come questa a una come questa in cui diciamo il parsing dell'HTML quindi l'interpretazione dell'HTML non è interrotto con diciamo le versioni più recenti dei browser è possibile usare due attributi particolari che ci interessano in modo particolare secondo cioè possiamo dire al tag script di lavorare in maniera async assincrona oppure in questa modalità defer che adesso andiamo a dettagliare perché sarà quella da noi preferita cosa vuol dire async async vuol dire che lo script sarà caricato in parallelo al parsing quindi dice al browser ok hai incontrato script va bene non fermarti nel parsing dell'HTML quindi continua a interpretare l'HTML però intanto carica la risorsa e poi questa sarà valutata nel momento in cui avrai finito di caricarla quindi verrà eseguita nel momento in cui avrai finito di caricarla l'alternativa è usare questo defer che indica al browser che lo script deve essere eseguito dopo che tutto il documento è stato parsificato cioè interpretato però prima di dire che il diciamo il browser ha finito di fare il caricamento al resto del codice javascript quindi tra l'altro questo l'uso di questo attributo defer su vari tag script come succederà poi nella pratica perché carichiamo il primo che è la libreria il secondo che è un'altra libreria il terzo è il nostro script ci garantisce che il codice di questi script venga eseguito nell'ordine in cui l'abbiamo specificato mentre se mettiamo async come abbiamo già evidenziato più volte il fatto che le cose siano async non ci garantisse niente riguardo all'ordine di esecuzione entrambi i tag script con questi attributi devono essere inseriti nella parte head del documento quindi ci ritroviamo in queste due situazioni questo con l'async quindi iniziamo a parsificare l'html incontriamo il tag script con async e quindi il browser continua a parsificare l'html ma intanto carica lo script nel momento in cui ha finito di caricare lo script interrompe il processamento dell'html e esegue lo script quindi è vero che fa due cose in parallelo però è anche vero che non sappiamo esattamente quando verrà eseguito lo script perché dipende da quanto ci mette a caricarlo e in più se ne ho più di uno non è detto che il primo si carichi più in fretta del secondo e quindi l'esecuzione può non essere in ordine invece col defer che è quello che preferiamo abbiamo il caricamento in parallelo quindi non perdiamo tempo nel momento in cui il browser scopre che c'è una nuova risorsa va e la carica però l'esecuzione arriva solamente alla fine dell'interpretazione del contenuto html e quindi questa è la situazione ideale per noi perché abbiamo tutto il DOM quindi la struttura del documento costruita in memoria lo script può agire su questa struttura volendo ben cosciente del fatto che è già stata tutta letta e non arriva a metà e non si sa quando come nel caso precedente o negli altri casi precedenti però non perdiamo più tempo a caricare il documento anzi lo script alla fine in confronto a prima dove il caricamento avveniva alla fine qui il caricamento può avvenire in parallelo e anche per più risorse se abbiamo più tag script e tutti vengono eseguiti garantendo l'ordine alla fine quindi questo è quello che vorremmo vorremmo fare per i nostri tag script quando li inseriamo a mano perché poi ovviamente nel momento in cui useremo un framework che ci fa lavorare ad un livello più elevato questa cosa sarà già stata decisa per noi però almeno inizialmente dobbiamo avere almeno una vaga idea di come funziona il javascript all'interno del browser quindi fatta questa precisazione che fondamentalmente vuol dire prendete il codice javascript dei file delle vostre risorse esterne lo mettete in un tag script con l'attributo defer nella sezione add punto ok allora parliamo del codice javascript nel browser il codice javascript viene caricato e fatto girare nel browser all'interno di una sandbox cioè un ambiente isolato una scatola di sabbia dicono in inglese cioè un ambiente che può interagire con il resto del calcolatore e il resto del browser solamente in una maniera molto controllata cioè certe operazioni non sono possibili non è possibile accedere ai file del computer non è possibile accedere a tante altre risorse a cui invece il browser essendo un programma nativo ha accesso perché perché il codice che scarichiamo dalla rete è potenzialmente codice scritto da qualcun altro come nel caso di libreria eccetera e non vogliamo che questo codice abbia accesso a risorse critiche dal punto di vista della sicurezza come sono i nostri file locali eccetera ok ok quando carichiamo il codice javascript dove viene messo dove viene fatto girare viene collocato nel cosiddetto contesto globale che nel browser significa l'oggetto window il browser ci mette a disposizione una serie di oggetti predefiniti il cui oggetto radice è window e poi avremo dei sotto oggetti in particolare quello radice del dom quindi il cui contenuto poi dipende dalla struttura html che abbiamo messo e poi ci sono tutta una serie di oggetti a disposizione del browser navigator screen frames history eccetera eccetera che ci consentono di interagire con l'ambiente di esecuzione del browser quando avevamo node node era l'ambiente di esecuzione e diciamo il posto dove girava il nostro programma era lo scope globale qui si chiama contesto globale che è appunto questo window object che ci viene messo a disposizione al browser ok notiamo ancora una cosa cioè più tagscript sono indipendenti tra loro avevamo detto all'inizio del corso ogni file javascript è un programma indipendente e questo continua a valere nel momento in cui li carichiamo nel browser però tutti finiscono nello stesso contesto globale e quindi tutti condividono lo spazio delle variabili globali diciamo così quindi accedono tutti allo stesso scope globale e quindi questo porta con sé una serie di problemi perché chiaramente interagire con uno scope globale che vuol dire fondamentalmente con variabili globali in cui rischiamo di sovrascriverci a vicenda può essere pericoloso e vedremo però più avanti che per avere una collaborazione un po' migliore tra questi vari script quindi questi vari programmi javascript avremo bisogno dei moduli abbiamo già intervisto come si può isolare un pezzo di programma da un altro con il meccanismo delle closure di javascript raccogliendo tutto in una funzione eccetera così che le variabili non siano accessibili e che di fatto è poi il meccanismo che viene usato dai moduli implicitamente però lo vedremo a tempo debito qui diciamo impariamo il minimo per riuscire a fare qualche esperimento mettervi in condizione di fare prove in laboratorio e stamattina invece ci concentriamo su che cosa c'è a disposizione all'interno del dome all'interno dei vari oggetti del browser per riuscire a fare qualche prova e riuscire a interagire col sistema bene nel momento in cui eseguiamo il codice javascript questo funziona a parte la presenza di questi oggetti aggiuntivi esattamente come in node quindi ci sono c'è l'event loop che fondamentalmente è un sistema per diciamo sapete che il javascript esegue il codice in maniera sequenziale ma nel momento in cui non ha più niente attende che ci siano ci sia del nuovo codice da eseguire per esempio tutto il codice che noi rendiamo assincrono fa sì che venga messo in una coda che viene chiamata event loop dal quale si va a prendere tutte le volte che c'è qualcosa il codice da eseguire viene eseguito nel momento in cui l'interprete javascript è libero in più nel browser possono succedere anche cose diciamo eventi esterni per esempio l'utente interagisce col browser fa un click sposta il mouse prema un tasto sulla tastiera e così via ognuna di queste azioni genera un evento se noi abbiamo collegato un event handler cioè del codice una callback a un evento vedremo più tardi come si fa questo codice verrà messo in coda nell'event loop e non appena javascript potrà eseguirlo questo verrà eseguito ok quindi abbiamo all'interno del browser anche la questione di dover gestire eventi esterni che in node non c'era in node c'era solo l'event loop cioè questo rimandare a più tardi l'esecuzione di codice invece gli eventi esterni all'interno del browser derivano dal fatto che c'è qualcuno che interagisce con la nostra pagina l'utente piuttosto che la comunicazione di rete e così via per esempio una callback che viene richiamata quando ho finito di caricare una risorsa e non so quando e così via gli eventi possono avere dei comportamenti predefiniti dal browser per esempio l'evento click su un su un link al comportamento predefinito di far ricaricare tutta la pagina andare sulla nuova pagina i comportamenti possono essere definiti dall'utente cioè dal codice che scriviamo noi in javascript o semplicemente ignorati la maggior parte degli eventi se non scriviamo codice viene ignorato quindi se clicchiamo su un elemento di una pagina che non è un link di default viene ignorato questo evento viene generato ma il browser lo ignora ecco dobbiamo fare attenzione che javascript è come avevamo detto single thread cioè può eseguire solo un pezzo di codice alla volta e quindi dobbiamo capire bene come funziona questo meccanismo dell'event loop della coda di messaggi che vengono generati dagli eventi ecco e per farlo ci riferiamo a questa figura questo è l'interprete javascript che ovviamente ha la sua memoria nella quale sono presenti tutti gli oggetti gli array tutto ciò che allocchiamo all'interno del codice javascript che eseguiamo creiamo una nuova variabile un nuovo array un nuovo oggetto qualsiasi cosa viene messo nella sua memoria nell'imp e poi c'è il call stack cioè il codice javascript mano a mano che viene eseguito farà delle chiamate di funzione ogni volta che entriamo in una funzione annidata mettiamo una nuova riga su questo call stack come tutti i linguaggi di programmazione in c in java in python eccetera ogni volta che entriamo in una nuova funzione abbiamo una nuova riga nel stack di chiamate di funzione nel momento in cui facciamo return questa riga sparisce e in quella riga sono contenute le variabili locali eccetera eccetera nel momento in cui eliminiamo tutte le righe cioè usciamo dalla funzione principale in un linguaggio di programmazione normale il programma termina in javascript invece no in javascript si va a vedere che cosa c'è in coda nella coda delle callback l'event loop è quello che lo fa è un loop che semplicemente attende che ci sia qualcosa di nuovo e si va a eseguire la prima funzione in coda è una callback quindi verrà messa qui sullo stack se fa altre chiamate questo stack va su va su va su poi torna giù va su a seconda delle chiamate che vengono fatte a un certo punto questa callback termina nel momento in cui termina il call stack è di nuovo vuoto e l'event loop va a prendere la prossima cosa che intanto viene eliminata dalla coda e così via in node avevamo visto che quando non c'era più niente qui e non c'erano più eventi in attesa quindi non c'era un timer eccetera il programma terminava nel browser non termina mai perché l'evento a sincrono interazione con l'utente e così via può sempre arrivare e quindi questo event loop se non c'è niente non fa niente nel momento in cui viene generato un evento a cui è associato del codice questo questa callback viene attivata viene messa in coda e se si può eseguire immediatamente viene eseguita altrimenti si attende che ci sia la possibilità di eseguirla questo è anche il motivo per cui bisogna fare molta attenzione quando si programma nel browser al fatto che quello che eseguiamo sia abbastanza rapido perché se javascript è occupato a fare qualcos'altro io genero un evento che mette in coda la callback relativa all'evento che io ho scritto in javascript e poi questa non viene eseguito fino a che javascript non ha finito di fare quello che stava facendo e dal punto di vista dell'utente fare un'azione e non vedere immediatamente la risposta ovviamente è una cosa che va poco bene perché sembra che il computer non abbia rilevato l'azione dell'utente e quindi bisogna sempre cercare di mantenere il processamento che facciamo al minimo ovviamente non vuol dire che non possiamo fare nessuna cosa ma se facciamo delle cose che sono potenzialmente lunghe richiedono tempo cerchiamo di farle in maniera sincrona abbiamo visto tutto il meccanismo di come si programma in maniera sincrona in javascript e quindi facciamo tesoro di quello che abbiamo visto e nel momento in cui abbiamo un'attività che richiede tempo tempo diciamo non di calcolo perché se dobbiamo fare dei calcoli non c'è alternativa a far girare il codice ma dobbiamo attendere il verificarsi di qualcosa carichiamo la risorsa di rete piuttosto che aspettiamo che il database ci dia la risposta eccetera e lo realizziamo come una funzione asincrona che vuol dire che nel momento in cui ciò che è stato richiesto sarà pronto viene messo in questa coda questa coda e l'event loop prima o poi eseguirà il codice corrispondente vi ricordate quando per esempio al database diamo una callback bene questa callback verrà messa nella coda e quando sarà il suo turno verrà eseguita però intanto liberiamo il call stack e se siamo nel browser vuol dire che possiamo reagire ad eventuali callback che vengono messe in coda nel momento in cui si verificano degli eventi cioè per esempio l'utente interagisce ok quindi tutto questo discorso è riassunto nella slide vediamo di non aver dimenticato niente quindi tutte le volte che faccio una chiamata di funzione in javascript questa aumenta di uno diciamo il livello dello stack delle chiamate appunto se c'è un evento questo viene messo nella message queue può essere qualsiasi cosa utente input output eventualmente dal local storage eccetera se non è se non è sincrono da rete i timer possibilità di creare i timer anche nel browser per schedulare periodicamente delle funzioni per esempio per aggiornare la pagina e così via e l'interprete javascript funziona in questa maniera se il call stack non è vuoto continua a eseguire altrimenti se è vuoto prende il primo che è in coda sulla message queue e la corrispondente funzionalità viene eseguita quindi la prima funzione viene messa sulla stack e si va avanti le chiamate di funzione e gli event handler non sono mai interrotti ed è per questo che il sistema va a dire se dovete fare qualcosa che potenzialmente può durare tanto perché deve attendere verificarsi qualcosa bisogna evitare di scriverlo con codice bloccante cioè farlo in maniera sincrona perché così quando è pronto viene messo in coda ma intanto posso fare del resto in particolare reagire a degli eventi ok vediamo ancora un po' di cose relative al browser e poi proviamo a fare degli esempi quindi vediamo browser object model cioè gli oggetti che ci vengono messi a disposizione al browser come manipolare il DOM e poi facciamo delle prove pratiche nel browser ok oggetti principali nel browser cioè il window e il document il document è una proprietà di window ma in realtà è anche direttamente accessibile poi senza window che può essere sottinteso nell'ambiente di esecuzione del browser diciamo che il window è l'oggetto radice se così lo possiamo chiamare tramite il quale possiamo accedere a tutti gli altri sotto oggetti che ci consentono di interagire col browser stesso appunto è l'oggetto globale windows e può essere omesso e quindi possiamo direttamente scrivere document navigator eccetera eccetera ok windows ha delle proprietà in particolare console quindi quando facciamo console log nella finestra del browser è possibile farlo stampa nella console del browser un po' come veniva fatto in in come si dice in node document è il documento tramite il quale è accessibile il DOM history tutta la storia delle degli url visitati dal browser location è l'url corrente può anche essere impostato local storage eccetera sono degli oggetti che ci consentono di salvare delle informazioni piccole tipicamente nel browser per esempio dei cookie o cose di questo tipo che servono a ricordarsi informazioni da sessioni precedenti o temporaneamente tra una pagina e l'altra ok alcuni metodi qui magari facciamo una brevissima prova nel browser ci sono dei metodi predefiniti questi appunto alert prompt confirma eccetera creano delle piccole finestrelle da non usarsi mai soprattutto all'esame sono veramente brutti c'è chi lo fa appunto non perché perché sono diciamo creati dal browser usando come dire la lo stile di default della piattaforma e quindi non sono uniformi tra le varie piattaforme tra l'altro non sono neanche particolarmente curati perché appunto in realtà non dovrebbe usarli nessuno perché sono principalmente lì per per fini di debug poi ci sono una serie di metodi utili per diciamo gestire i timer che funzionano esattamente come i node quelli che abbiamo visto quindi impostare un timeout quindi far chiamare del codice una callback dopo un certo periodo di tempo questa callback quando scade il timer viene messa nella coda nella message queue nel momento in cui non sta facendo niente l'interprete viene presa e eseguita o interval va bene periodicamente viene richiamato ecco questi questi due metodi invece sono molto più interessanti ci consentono di aggiungere un cosiddetto event listener o toglierlo se ne avessimo bisogno su certi al verificarsi di certi eventi cioè colleghiamo del codice una callback che metteremo come parametro di questa funzione add event listener su un certo evento che di nuovo dobbiamo poi specificare e il browser si ricorderà che noi abbiamo collegato questa callback al verificarsi dell'evento metterà in coda il codice della callback nella message queue in maniera che questo possa essere eseguito quando l'interprete javascript è libero ecco guardiamo ancora questo poi facciamo una prova per immagazzinare dei dati localmente ci sono diversi meccanismi io ho nominato local storage session storage web storage diciamo è il meccanismo generico che racchiude entrambi oppure c'è il meccanismo più banale dei cookie che è una delle tante proprietà accessibili tramite document perché ci servono i cookie semplicemente per immagazzinare l'informazione che deve essere mantenuta sul browser e magari inviata in richieste diverse al server quando ne avremo bisogno daremo un'occhiata tipicamente non andiamo a manipolare direttamente queste informazioni sono in casi molto particolari questa informazione serve per mantenere il collegamento tra richieste diverse sul browser quindi un cookie diciamo così di sessione quello che fa sì che il server mi riconosca per esempio come utente autenticato che si è autenticato per l'utente X quindi Enrico e che ha fatto l'autenticazione e quindi può accedere a tutte le informazioni relative a quell'utente siccome le richieste HTTP verso il server sono ognuna indipendente dalle altre è necessario mantenerle insieme e come si fa si usa appunto un piccolo pezzettino di informazione di solito generato in maniera casuale che viene inviato in ogni richiesta negli header HTTP automaticamente dal browser e questi si chiamano cookie che fanno parte del protocollo HTTP ok prima di andare avanti io farei qualche esempio quindi prima di parlare del documento object model ma proprio giusto di base quindi adesso apro Firefox ma per comodità la stessa cosa si può fare in Chrome va bene c'è un documento già caricato ma non fa niente evitiamo anche senza alcun documento se voi aprite gli inspector e quindi diciamo gli strumenti di sviluppo andiamo su console e questa è una console javascript quindi possiamo scrivere tutto quello che scriviamo di solito quindi console.log hello dove viene scritto? viene scritto nella console e la console è questa è questa finestra qua come quella finestrella sotto che vi vedevate di node e posso anche fare quello che vedevamo prima come esempio window prompt hello ecco il prompt diciamo mi chiede dell'informazione poi ci sono diversi metodi c'è l'alert c'è il prompt eccetera giusto per fare una prova come vedete vedete lo stile di questa finestra che è assolutamente orribile e appunto va giusto bene per fare delle prove di debug quello che scrivo viene ritornato dall'istruzione questo è il valore di ritorno prima run define perché console.log non ritornava nulla ma window prompt mi ritorna questo alert tutto anzi devo mettere una stringa tutto bene tutto bene ok come vedete questa volta non ho scritto window è sottointeso per molte funzioni quindi a disposizione indipendentemente dal fatto che scrivo window che è l'oggetto globale tutto bene ok posso solo schiacciare ok come faccio se devo fare dei messaggi di questo tipo nella mia applicazione ve lo dico anche in vista dell'esame avete una libreria avete bootstrap ci sono già tutte queste cose implementate c'è la finestra modale se voglio bloccare tutto vedete se io clicco qui a destra non succede niente o qui a sinistra l'unica cosa che posso fare ok mi ha bloccato l'interfaccia devo schiacciare ok oppure potete anche fare un messaggio che non è bloccante eccetera ci sono tutte queste cose già pronte già implementate pronte da essere usate per esempio in bootstrap o in qualsiasi libreria di diciamo che vi consente di dare un buon stile alla vostra pagina libreria css eccetera che ovviamente contiene anche un po' di codice javascript perché certe cose appunto devono essere codificate tramite javascript certi comportamenti bene se ci sono dei dubbi o domande mi raccomando intervenite pure io monitoro sempre il canale slack anche la chat si senti non l'aveva scritto tanto tempo fa ok e quindi direi che possiamo andare avanti abbiamo fatto proprio questa mini prova usando la console diamo un'occhiata al documento object model così poi possiamo interagire con una pagina html e rediamo il tutto un po' più interessante quindi noi ci focalizziamo ovviamente visto il tempo limitato sui concetti fondamentali le tecniche fondamentali anche perché poi in realtà noi dobbiamo avere in mente come che cos'è il DOM e come funziona il DOM però poi quello che vediamo in questa lezione è solo per sperimentazione perché poi dalle lezioni successive useremo un framework che astrae molto da quello che stiamo facendo avrà react che è il framework che usiamo avrà ancora il concetto di DOM però come dire è virtualizzato infatti lo chiamano virtual DOM nel senso che chiaramente dovremmo ragionare in termini di tag di html di struttura annidata dei vari tag eccetera quindi in termini di contenuto crea una tabella crea una lista o un form posso lasciare fare dell'input all'utente eccetera però lo faremo secondo quello che ci dice il framework che si occuperà lui poi di andare ad usare questi metodi che vediamo questa volta che sperimentiamo almeno una volta più che altro per completezza e per capire come effettivamente funziona il DOM il document object model all'interno del browser ok anche il DOM tanto per cambiare è un living standard come l'avevamo chiamato nel caso di html5 e css cioè anche questo evolve e viene standardizzato e mano a mano che si intravede la necessità vengono aggiunti vengono aggiunte funzionalità per esempio sui su come si possono gestire i vari nodi quindi aggiungere togliere i vari metodi le varie interfacce gli eventi che vengono generati eccetera eccetera se siete interessati andate a dare un'occhiata ma ovviamente le specifiche sono sempre difficili da leggere vediamo qualcosa di un po' più pratico abbiamo già visto che è la rappresentazione nella memoria del calcolatore del contenuto della pagina web cioè fondamentalmente un albero che parte da html che è il tag che contiene tutto nel quale vengono sono contenuti due tag html no head e body nell'head ci sono le meta informazioni e nel body c'è tutto il contenuto della pagina strutturata nel momento in cui il browser riceve l'html fa il parsing dell'html che vuol dire che costruisce nella sua memoria una struttura ad albero di questo tipo in più tramite il javascript ci espone un api tramite la quale possiamo interagire con questo dom e possiamo in particolare andare a esplorarlo ma anche modificarlo le modifiche che facciamo vengono immediatamente riflesse nella visualizzazione nella finestra del browser ed è questa ovviamente la potenza di adoperare il linguaggio per andare a diciamo visualizzare del contenuto dinamicamente sulla base di quello che richiede l'utente e la logica della nostra applicazione con javascript possiamo fare di tutto possiamo accedere alle informazioni quindi metadati gli header al contenuto della pagina editare quindi modificare il contenuto dei nodi all'interno della pagina ognuno di questi elementi è un nodo cambiare gli attributi crearli cancellarli aggiungerli cambiare lo stile css e anche aggiungere o togliere di solito si aggiunge e basta degli event listener cioè aggiungere il codice da eseguire nel momento in cui si verificano degli eventi su specifici nodi all'interno di questa struttura ad albero ok esistono diversi tipi di nodi questa è la gerarchia dei nodi fondamentalmente l'elemento fondamentale è il nodo che poi può essere specializzato in un nodo di tipo element diciamo html element cioè il tag in parole povere piuttosto che un nodo semplice di tipo text piuttosto che un commento il commento lascia il tempo che trova ma il text può essere importante perché ciò che c'è scritto tra il tag aperto e chiuso ed è il contenuto testuale all'interno della pagina cioè quello che l'utente poi legge l'utente non legge un div ma legge il contenuto presente all'interno del tag stesso possiamo andare a manipolare poi gli attributi ok e quindi sì qui non sono modellati esplicitamente va bene diciamo questa è la struttura base e ho poi una serie di metodi che mi consentono di lavorare su questi su questi elementi in particolare sul nodo e poi questi stessi metodi vengono specializzati per dei nodi di tipo più particolare per esempio appunto gli element che sono una sottocategoria di nodi e così via il testo non può avere attributi ma gli element possono avere degli attributi gli html element possono avere degli attributi per esempio ok quindi le API del DOM consentono di manipolare insiemi o liste di nodi array di nodi il node list ecco non è esattamente un array in javascript ma diciamo che ai nostri fini fondamentalmente è come se fosse un array perché ha la possibilità di accedere a quasi tutto quello che abbiamo visto sugli array in javascript quindi ha una propria talent ha un iteratore no scusate itemi diciamo ci consente di selezionare un certo elemento sulla base dell'indice nella lista ha la possibilità appunto di avere una serie di iteratori quindi come abbiamo visto sugli array keys values o entries copie key value ok for each ci consente di iterare quindi un po' come se facevamo sugli array con programmazione funzionale e poi ovviamente abbiamo la possibilità come su qualsiasi array di fare for off ok come facciamo a lavorare con i nodi prima di tutto dobbiamo essere in grado di andarli a recuperare quindi abbiamo una struttura d'albero non possiamo partire sempre dalla radice navigare tutto il percorso per andare a recuperare quello che ci serve javascript ci mette a disposizione dei metodi sul document che ci consentono di andare a recuperare i nodi che ci interessano una volta che li abbiamo questi nodi sono per javascript degli oggetti sui quali abbiamo poi i vari metodi che ci consentono di fare tutto quello che vogliamo aggiungere un nodo figlio cambiare un attributo cambiare la classe cambiare lo stile eccetera eccetera però prima di tutto dobbiamo avere il riferimento cioè l'oggetto sul quale vogliamo lavorare cosa ci mette a disposizione javascript questi metodi che sono fondamentalmente quelli da cercare di ricordarsi in particolare il primo forse più famoso più utilizzato presente da più tempo getelement by id cerca l'elemento in cui abbiamo messo un attributo id uguale a un certo valore e questo vi fa anche capire l'importanza di mettere questi attributi id classe eccetera sugli elementi della pagina html perché poi per manipolarli da javascript è molto facile è facile perché appunto possiamo recuperarli in maniera molto rapida semplicemente con questo metodo senza navigare all'interno dell'albero del dom che potrebbe essere possibile però è ovviamente molto macchinoso e questa navigazione tra l'altro deve essere cambiato tutte le volte che cambiano la struttura della pagina invece noi sappiamo che l'elemento che ci interessa è sempre taggato con lo stesso valore per l'attributo id questo codice funzionerà sempre indipendentemente da qualsiasi struttura della pagina che usiamo bene possiamo usare va bene l'id che ci dà un unico elemento perché ci si aspetta che l'id sia unico elements quindi plurale tramite il nome del tag tag html quindi tutti i div dammi tutti i tr tutti quelli che sono nella appunto tutte le righe della tabella eccetera oppure tramite la classe che è l'attributo class uguale che è quello che viene usato solitamente per dare lo stile in css oppure addirittura nelle ultime versioni ultime ma non troppo ultime quindi già presente in tutti i browser che possiamo pensare di utilizzare possiamo usare il cosiddetto query selector in cui possiamo andare a selezionare un elemento usando la sintassi dei selettori css che abbiamo visto l'altra volta quindi qualsiasi selettore css che è valido può essere usato qui come parametro sotto forma di stringa e il risultato sarà tutti gli elementi che fanno match con quel selettore css selector o selector all uno ci dà il primo e l'altro ci dà una lista di tutti quanti se ce n'è più di uno anzi se no ci dà una lista di un unico elemento ecco tutti questi metodi funzionano abbiamo visto prima sul document quindi a partire dalla radice ma sono presenti anche su tutti gli elementi nel momento in cui li usiamo sugli elementi vanno alla ricerca di quello che abbiamo chiesto solamente nei nodi figli quindi quelli al di sotto nell'albero quindi in quella specifica sezione dell'albero che possono essere quindi facilmente usati per raffinare le ricerche oh c'è una domanda scusate che non l'ho visto per bootstrap si può usare la versione 5 quindi stiamo un po' tornando indietro adesso mi consulto anche con gli altri docenti ma non so in che stato sia se non è proprio già stabile cosa che dubito se no avremmo beta ecco come dire è il rischio di usare una beta no? di per sé si si può usare però appunto poi si incontra qualche difficoltà il rischio di queste versioni che non sa mai se 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 poi c'è un problema se colpa sua se colpa della della libreria è vero che i bug ci sono dappertutto però diciamo che nelle versioni che non sono dichiarate alfa, beta eccetera siamo un po' più tranquilli che la maggior parte dei bug dovrebbe essere stato risolto quindi io appunto come dico chiederò anche ai colleghi però cioè di per sé non non c'è nulla di male se non per il fatto che bisogna un po' fare attenzione al fatto che magari lo stanno ancora mettendo a posto magari non funziona perfettamente bene su tutti i browser e così via e quindi sono gli svantaggi probabilmente adesso non so cosa ci sia in più di così diciamo interessante per per usare la versione 5 piuttosto che la 4 e qualcosa che ormai appunto è abbastanza sviluppata perché siamo la 4 e 6 però se vuol provare di per sé non c'è nulla di male non è che sia vietato bisogna un po' solo fare attenzione ecco come con tutte le versioni beta ok quindi come facciamo a accedere agli elementi DOM basta scrivere nel codice javascript document e poi uno di quei metodi getelement qui reselect eccetera eccetera dunque diamo solo sì diamo un'occhiata ancora a un paio di slide e poi facciamo delle prove quindi ok questo questo è stato fatto scrivendo il codice direttamente nel nel documento html che ovviamente non è una buona pratica ma diciamo per fare degli esempi e non dover complicare troppo l'esempio con due caselle una che carica l'altra eccetera diciamo per fare qualche prova si può fare così oppure si può direttamente provare nella console quella che vedevamo prima dicevamo prima che il nodo è un oggetto anche abbastanza complicato complicato nel senso che ha tante proprietà per esempio dal nodo potete navigare su altri nodi usando degli attributi delle proprietà anzi quindi c'è il parent node per andare al nodo sopra nell'albero al precedente al successivo se esistono allo stesso livello al primo figlio all'ultimo figlio a tutti i figli che quindi vi darà un array o meglio un node list e così via e quindi basta prenderci un po' la mano però insomma ci sono i metodi che vi aspettate di avere a disposizione per navigare all'interno dell'albero gli attributi dell'html diventano proprietà degli oggetti DOM quindi nel momento in cui io prendo il riferimento al body quindi document body l'id è una proprietà di quel oggetto quindi posso scrivere punto id così come su document posso scrivere punto body se ho messo un body come è normale fare nell'html input id input eccetera e anche diciamo altre proprietà anche le proprietà di tipo boole sono a disposizione per manipolare gli attributi invece non possiamo fare come facciamo in javascript diciamo aggiungerle basta come una nuova proprietà di un oggetto oppure fare delete farlo sparire bisogna usare i metodi visti qui che mettiamo a disposizione nelle slide che le inchiamo anzi a disposizione le mette il browser perché così vengono creati proprio come elementi del DOM quindi vogliamo impostare un nuovo attributo set attribute nome valore oppure vogliamo toglierlo vogliamo avere la lista di tutti quanti eccetera ci sono i vari metodi che possiamo usare su qualsiasi nodo possiamo anche crearne eccetera dunque ecco diamo ancora un'occhiata alla creazione e poi facciamo la prova esiste su document la possibilità anche sugli altri nodi di fare create element per creare un elemento con un certo tag quindi create element virgolette div crea un div che in questo momento non è collegato a niente quindi è al di fuori dell'albero del DOM così come un create text node quindi del testo ok e poi dobbiamo però inserirlo nel nell'albero del DOM per poterlo far visualizzare al browser ok tra l'altro ecco vi faccio notare nell'esempio che esiste una proprietà abbastanza interessante che si chiama punto inner text che ci consente facilmente di impostare il testo all'interno di un un element quindi quello che c'è scritto tra il tag aperto e chiuso quindi viene creato div div che avrà ecco sotto c'è l'esempio div e il testo tra il div aperto e chiuso è questo quindi possiamo diciamo spesso evitare di farci create text node e poi aggiungerlo col metodo ma direttamente fare punto inner text uguale il browser diciamo tutto quello che mettiamo qui lo interpreta come testo e lo aggiunge appunto all'interno del tag possiamo anche impostare degli attributi per esempio class e così via ecco class è l'unico che è un po' particolare perché siccome class è una parola chiave in javascript non possiamo scrivere appunto class perché altrimenti il parser javascript non capirebbe più come non possiamo chiamare le proprietà appunto punto if no appunto else eccetera class però appunto si sa che è una proprietà estremamente utile perché è quella che viene utilizzata per fare lo styling in css si chiama class name e produce l'attributo class quindi è una piccola particolarità da conoscere ecco se non sono inseriti nell'albero del DOM non appaiono e quindi bisogna inserirli da qualche parte se io faccio per esempio append child quindi ho l'albero ho l'elemento sul quale mi interessa aggiungerlo come figlio quindi per esempio nel body faccio append child div mi appare nel nel DOM e quindi viene visualizzato dal browser e adesso direi che andiamo a fare la prova scusi non ho ben capito nella slide 31 se mettiamo un valore giusto prima di slash chiuso chiuso parentesi viene considerato come boolean o questa cosa vale solo per input no questa cosa vale solo per input perché ogni tag ha diciamo la sua lista di attributi e i tag i tag dei form hanno molti attributi di questo tipo quindi sono di tipo boolean perché perché appunto hanno uno stato che in certi casi deve essere modellato come come un valore boolean questo è una checkbox quindi una casellina che potete cliccare o no e per dirvi se cliccate o no esiste questo attributo e questo attributo può essere specificato in nel codice html semplicemente dal fatto che è presente o non presente ok se lo mettete presente quindi di default è cliccato altrimenti no quindi andiamo a fare qualche prova quindi prendiamo un documento e e vediamo cosa succede quindi apriamo apriamo il nostro browser quindi io qui ho un documento html normalissimo e poi vi metto a disposizione come sempre alla fine della lezione quindi ok niente di particolare quindi un head vabbè l'head diciamo ci interessa fino a un certo punto div header main eccetera eccetera c'è una tabella div class rov è stato fatto lo stile con il con bootstrap e quindi ci sono tutti i vari div che ci servono a fare un po' di stile con bootstrap e poi c'è una tabella no quindi exam score date quindi la riga di header thead tr quindi vedete che passiamo sopra ci sono i vari elementi poi c'è il body tutta la tabella le righe ogni riga ha tre elementi quindi niente di particolare no una normalissima struttura ad albero e poi vabbè in fondo c'era ancora un secondo div è stato messo di fianco col col 8 col 4 prima c'era col 8 col 4 sapete che bootstrap ci consente di fare questa divisione sulla griglia 12 colonne ebbene diciamo uno spazio in cui scriviamo qualcosa in questo caso c'è scritto semplicemente un paragrafo proviamo ad andare a modificare qualche cosa quindi come facciamo prendiamo la console lo facciamo della console per prima cosa perché è più facile è interattivo immediatamente visibile poi dopo proviamo a farlo tramite del codice javascript caricato all'interno della pagina quindi diciamo che io faccio un allora intanto facciamo document quindi partiamo sempre da document get element by id proviamo il primo metodo che abbiamo visto adesso spero che non me lo perda su questo avevo messo la parte destra avevo messo id comments id comments e ovviamente metto questi id proprio per poterli usare qui in javascript quindi virgolette comments ok che cosa mi dà come risposta il valore di ritorno è quel div e poi diciamo la console del browser è così gentile da anziché farmi una semplice stampa come mi farebbe node mi dà un elemento interattivo che posso andare a dispezionare e quindi è utile conoscere appunto queste funzionalità perché all'inizio ci consentono di esplorare un po' il sistema semplicemente questo e quindi qui vedo tutti gli attributi vedete che ce n'è una quantità notevole dove trovo per esempio tutti quelli che dicevamo prima quindi dunque avevamo visto il parent giusto per prenderne uno a caso parent node div row se andiamo a vedere il parent era ecco il parent di questo è quello sopra che era il div row quello che abbiamo inserito per bootstrap ok poi abbiamo ecco previous sibling text era del testo che in realtà era vuoto che spazi sono spazi sarà il next sibling eccetera ci sono le proprietà abbiamo visto prima inner text inner text che è quello che c'è scritto come vedete no e se non mi va la cambio nel senso che sono proprietà si possono assegnare dei valori quindi io chiudo diciamo che diciamo giusto per comodità diciamo che scrivo let p uguale è la stessa cosa di prima quindi adesso in p c'è quello che mi interessa il div p punto per non scrivere una riga di codice lunga un chilometro solo per questo di per sé avrei potuto scriverlo anche prima no inner html se io scrivi in inner html viene interpretato come codice html quindi parsificato dal browser e vengono creati nuovi nodi se necessario però una maniera un po' brutta di interagire col DOM no perché con delle stringhe facciamo creare dei nodi non è proprio il massimo anche se funziona scrive inner text diciamo facciamo così più inner text inner text più diciamo ci scrivo qualcosa in più avete visto che è comparso un pezzettino qui in più to show ho preso il vecchio contenuto ho concatenato una nuova stringa ho creato una nuova stringa l'ho assegnata all'inner text ho modificato dinamicamente il contenuto della pagina qui ho lavorato con il test potevo lavorare con un elemento html quindi creiamo un nuovo un nuovo elemento new p uguale document create element p ok quindi new p new p è un p in cui non ho messo niente e non è presente da nessuna parte perché non è ancora stato inserito nell'albero del dom no diciamo che faccio new p punto inner text uguale non so help che ne so qualcosa così ok qui di nuovo un p vedete che no scusate new p ah però non me lo non me lo fa aprire vabbè ecco adesso se ne batto in via me lo fa aprire e mi avrà messo dentro nell'inner text quello che volevo io inner text help ok se io adesso lo aggiungo quindi al p di prima faccio append child dunque l'abbiamo chiamato new p notate bene cosa succede qui eh prima che batto in via mi comparirà qui viene inserito nell'albero del dom che viene visualizzato avete visto che è comparso qui ok e se vado a vedere nel dom vabbè quello sopra non era un p era del test io l'ho appeso al div e l'ho messo qui sotto come figlio del div ok quindi vabbè avrei forse potuto fare una cosa un po' più stilosa e mettere il p qui barra p giusto no cosa ok evidentemente non si può fare in questa maniera ogni editor ha le sue manie diciamo che ecco se scrivo così non mi prende il tag quindi devo fare edit html se no il browser non me lo interpreta come html non lo interpretava come testo però diciamo appunto queste sono dipendono dipendono dalle specificità di ogni inspect del browser quindi dei tool di sviluppo di ogni browser eccetera quindi se voglio modificare html e usarlo come html devo fare edit html se invece faccio clic e basta lui mi prende solo testo va bene però a parte questo dettaglio ho modificato tramite il javascript l'albero html e il browser nel momento in cui ho fatto la modifica questa modifica me la visualizza immediatamente quindi posso manipolare il dom l'html il contenuto direttamente all'interno del codice javascript tramite le api fornite dal browser vediamo di completare il discorso e poi facciamo ancora una prova caricando un file esterno javascript quindi posso inserire gli elementi l'abbiamo visto append child poi in realtà append child è uno dei tanti e a seconda di dove voglio metterlo esistono n varianti quindi l'append lo mette in fondo il prepend lo mette all'inizio il before lo mette prima l'after lo mette dopo e così via diciamo che avete tante varianti giusto per evitare di dover scrivere del codice complicato append child fare parent puoi fare l'append child sul parent quindi esistono tutta una serie di metodi che diciamo ci aiutano a scrivere meno codice in parole povere ok il contenuto lo gestiamo con inner text o inner html ecco se vogliamo scrivere dell'html che deve essere interpretato il browser come html dobbiamo usare inner html in questo caso il browser fa il parsing del contenuto e lo converte in nodi dom e attributi se necessario quindi se noi scriviamo che sono strong eccetera strong diventerà un attributo se usiamo inner html vi dicevo non è che sia il massimo dello stile perché appunto scriviamo del codice come stringa che deve essere interpretato eccetera non cioè è un po' più pulito dal punto di vista della programmazione creare i nodi creare i figli eccetera appenderli dove vogliamo però ogni tanto diciamo che di nuovo per fare qualche prova per debuggare eccetera può essere molto utile perché chiaramente è molto più compatto di mettersi lì e fare create text create element append text e append sul div su quattro metodi e qui con una riga con un po' di testo visto che siamo in grado di scrivere un po' di codice html risolviamo tutto una cosa per tagliar corto da usare con moderazione come tutto il resto come gli alert come i prompt eccetera eccetera va bene io direi che non mi sembra il caso di spendere tanto tempo su tutti questi metodi in cui se uno ha bisogno tanto finisce che uno non si ricorda più perché before begin after begin before end eccetera eccetera insert ad eccetera text l'importante è ricordarci solo che ci sono gli element e i text che sono due cose un po' diverse perché i text sono test che non possono avere attributi eccetera e tutto il resto sono elementi html va bene possiamo clonare i nodi eccetera ecco possiamo farci un po' di stile forse questo è importante da dire perché poi lo stile appunto torna quindi vediamo sì e poi facciamo la prova quindi possiamo impostare le class anche da codice javascript quindi un modo di impostare la class e un modo è quello di lavorare direttamente con lo stile cioè possiamo accedere direttamente allo stile css scritto come siamo abituati a scrivere in css quindi come vi dicevo prima la property non si chiama class per un problema di keyword javascript si chiama class name e potete fare appunto add remove toggle e così via e questo ecco questo probabilmente vale la pena di ricordarlo bene perché poi ce lo ritroviamo spesso in react anche quindi nel framework che usiamo perché molte manipolazioni non sono tanto quello di creare un nuovo elemento ma magari di cambiare gli stile per esempio se avete bootstrap cambiate la classe no da attiva a non attiva rimuovete la classe active e quello diventa disattivo e così via quindi è una manipolazione in interfaccia che avviene tramite lo stile css e quindi vale la pena di sapere come si fa perché poi spesso dovremo andare a farlo ecco class name non class potrei anche andare a lavorare direttamente con le stringhe per pura comodità ci vengono fornite una serie di metodi perché se ho messo quattro attributi su classe e voglio aggiungere un altro dovevi prendere la stringa leggerla fare più mettere lo spazio eccetera e se devo toglierlo diventa ancora più pasticciato cioè devo andare a cercare dove inizia e dove finisce quel pezzo nella stringa rimuoverlo dalla stringa fare uno splice quello che volete e mettere insieme il resto quindi abbiamo gli attributi ad remove toggle ecco toggle che è anche interessante che serve proprio spesso per questi casi in cui devo aggiungere active o no e adesso premendo una volta diventa active ripremendola non è più active e viceversa toggle se lo trova lo toglie se non c'è lo mette e quindi fa ancora di più fa quello che dovremmo fare tipo con if contains allora add else remove toggle fa tutto da solo ok diamo un'occhiata no facciamo ancora lo style c'è un punto style su tutti gli elementi che contiene le proprietà css in forma di css per esempio le display per esempio tutte che so color piuttosto che diciamo quello che abbiamo impostato noi occhio che ci sono due modi di vedere queste proprietà sono quelle impostate esplicitamente che quindi ritroveremo nello style ma per vedere qual è il valore diciamo calcolato dopo l'applicazione di tutto lo stile css dobbiamo usare un apposito metodo che si chiama get computed style e quindi dobbiamo dobbiamo usare questo metodo se vogliamo conoscere alla fine qual è lo stile veramente applicato per una certa proprietà eventualmente con pseudo valore per esempio active eccetera nel momento in cui ci interessa andiamo a fare delle prove perché sennò diventa veramente doioso non solo per voi ma anche per me quindi prendiamo il nostro browser quindi cosa possiamo fare possiamo beh vi faccio vedere immediatamente lo stile che è veramente facile quindi non su p ma abbiamo new p quindi io non ho chiuso la console quindi in new p c'è ancora questo elemento che questo è new p style e poi posso usare tutte le proprietà css non so perché qui a destra non lì ma va bene usiamo la proprietà più banale del mondo color uguale diciamo red ok ci sono dei colori predefiniti se no li scrivo con la sintassi cancelletto eccetera per il rosso verde con rosso verde blu adesso quando premo invio notate cosa succede diventerà rosso no non diventa rosso per quale motivo new p style color dovrebbe diventare rosso new p questo è ovviamente style color red che non me lo visualizza quindi nell'inspector non c'è non è venuto fuori è un po' strano new p new p la penchild forse crea una copia dell'oggetto e mi sa che ha ragione e quindi il new p non è quello che visualizziamo infatti non l'abbiamo visto qui e quindi facciamo una prova a vedere come diceva il vostro collega se è vero ci ritroveremo per un secondo el per rosso no andiamo a vedere cosa è successo no il new p ah no scusate ho cambiato tab chiudiamo il new p p pure il p dovrebbe essere quello lì allora proviamo a fare di nuovo p document get elements by id quindi questo è il p che è quel div poi facciamo applichiamolo applichiamolo al div va così facciamo prima style qui andiamo a cercare se c'è bisogno ma non voglio farvi perdere tempo ok adesso è diventato tutto red ma ho usato un trucchetto nel senso che ho messo uno style color red sul div perché se no dovevo andarmi a prendere il figlio e applicarglielo possiamo anche farlo quindi adesso editiamo l'html solo per far prima se no quindi togliamo ok ok non è più rosso vedete com'è potente questo sistema nel senso possiamo modificare da qualsiasi parte e riusciamo a fare diciamo quello che vogliamo quindi child nodes ecco tra l'altro una lista quindi diciamo prendiamo il primo tanto per vedere un altro modo sempre per accedere alle stesse quindi questo qui dovrebbe essere l'help che si parte da zero l'uno è il primo elemento è il secondo elemento quindi dovrei riuscire a fare questa cosa style punto color uguale a red vediamo se funziona quindi speriamo che help diventi red no oggi c'è qualcosa che non ci funziona quale motivo vabbè è il bello della della diretta pure pitch child nodes 1 pitch child nodes 1 dovrebbe darci p style color red però evidentemente non è il color non va a modificare il colore del testo ho avuto qualche problema qualche volta sì ma infatti noi volevamo modificare il colore del testo però vabbè comunque diciamo che css properties color red ci sarà qualche nel senso che se se la metto nel p no probabilmente p non supporta color è possibile è possibile infatti avevo fatto la prova col div e andava quella che vi ho fatto vedere vabbè inconvenienti del potrebbe andare nel rispetto di p andiamo a vedere sì sì non ci viene non ci viene fuori quindi evidentemente stai perché non mi viene il rispetto p evidentemente non eh sì così funziona è molte proprietà di boost è ovviamente important e quindi in realtà sarebbe stato meglio aggiungere una class quindi diciamo che questa la come facciamo la togliamo ok eh sì quindi in realtà appunto bisognerebbe fare una prova quindi diciamo prima provarlo qui class uguale non lo so se funziona sto un po improvvisando vabbè fa un'altra cosa vabbè insomma comunque credo che il concetto sia abbastanza chiaro nel senso che ovviamente dobbiamo sapere che la proprietà CSS funziona piuttosto che la classe funziona e così via però nel momento in cui vogliamo modificare qualcosa siamo abbiamo la possibilità di farlo direttamente in javascript quindi ok vi faccio ancora vedere visto che abbiamo ancora un po di tempo come caricare questo codice dal javascript dal file javascript quindi ok questo lo lasciamo qui apriamo il visual studio code che avevo già preparato questo è l'exam bootstrap.js l'html che stavo utilizzando che contiene diciamo quella tabella che vedevate prima la parte a destra con l'id comments con questo paragrafo che ci ha dato così tanto da pensare su sto color e va bene abbiamo applicato lo stile bootstrap ecco vi faccio notare una piccola modifica che vi ho già descritto che ho messo quindi nel file html l'altra volta se vi ricordate gli script ce l'avevamo alla fine del body li avevamo messi qui sotto adesso ho messo gli script tag script src eccetera diciamo quelli di bootstrap quelli richiesti da bootstrap qui sopra nel header col defer come dicevamo prima quindi cosa succede col defer io carico lo script mano a mano che leggo il codice html quindi quando il browser legge la parte head incontra script vede defer e dice ok allora comincio a caricarlo lo eseguirò quando avrò finito stessa cosa qui per il secondo bootstrap ci chiede di caricarne due va bene quindi è come se li avessi messi qui in fondo diciamo fuori virtualmente dal codice ma se li metto fuori ovviamente non funziona più però alla fine vengono eseguiti dopo che si è fatto il parsing di tutto il codice javascript come uso delle risorse esterne posso usare anche le mie risorse nel senso che posso fare un script defer src uguale il nome di un file che adesso creo che dunque come l'ho chiamato giusto per my script my script molto fantasy e quindi io qui adesso mi faccio un file my script js in cui posso scrivere quello che voglio e verrà caricato nella pagina quindi facciamo che so facciamo quello che abbiamo fatto prima let p uguale fatemi fare un po' di copia e incolla se facciamo un po' prima quindi document getelement by id comments quindi quella parte a destra append child e vabbè potevo crearlo separato ma l'ho creato direttamente qui document createelement p no punto poi facciamo p punto ok no in realtà in realtà era meglio chiamarlo div questo sarebbe stato il div e poi ci confondiamo lo chiamiamo div ma solo per nostra comodità perché questo è il getelement append by id anzi in realtà append child no bisogna vedere cosa ritorna l'append child bisogna trovarlo va bene facciamo facciamo una cosa così va div append div append child poi se voglio faccio div child nodes e poi posso inner text dovrei riuscire a fare ecco vediamo sto sperimentando è proprio al bordo quindi ho solo semplicemente caricato il mio javascript che viene eseguito al termine del caricamento dopo tutta la roba di bootstrap e quindi dovrebbe capitare qualcosa adesso avendo un po' inventato così al volo non so cosa succede vediamo un po' ovviamente c'è sempre qualcosa che non va ma credo che anche fare un po' di debugging non sia male allora prima di tutto verifichiamo che carichiamo quello che vogliamo noi è sempre un rischio c'è il nostro script myscript quindi nelle risorse quindi nel codice dovremmo vedere che c'è il myscript ok che è la nostra roba e poi se non funziona io vi beh possiamo anche provarlo nel debugger quindi ricaricare quindi ho messo un breakpoint giusto così per provare quindi div div avrà il child nodes ah era l'uno il p perché c'è prima il text se usa child nodes quindi qui era uno adesso modificarlo qui diventa un pasticcio lasciatemi modificarlo in visual studio code ok quindi adesso ho salvato e riprovo quindi consentitemi ecco rifare la stessa cosa vado avanti dunque nel debugger ecco qui si fa così vado avanti quindi quindi c'è il nodes 1 inner text tello speriamo che funzioni eccolo qua in realtà vabbè non era esattamente quello che avevo in mente di fare ma ho comunque modificato tramite del codice che ho scritto io il contenuto della mia pagina e ho ecco questo era sì il container main leave row comments e ho creato questo p hello che diciamo che è andato a sostituire quello che ho fatto quello che era già presente quindi rispetto a quello che era già presente che era questo il p in realtà ho preso il primo p e quindi quindi debuggando ancora un po' sì abbiamo un attimo di tempo debuggiamo ancora un pochettino quindi proviamo a ricaricare di nuovo così intanto proviamo a usare il debugger dicevamo questo div nel momento in cui passo oltre posso andare ah no non ho ancora andato avanti sì mi sa che sono incartato comunque ricarichiamo quindi mettiamo il breakpoint a questo punto che è più facile quindi ricarico ancora una volta ok è arrivato a questo punto ok sì ci passo sopra vado a vedere il chain notes che in realtà è dato un 4 quindi il p che mi interessava era il terzo dunque se uso il il chain notes sono tutti gli elementi inclusi quelli di testo nel chain notes 0 c'è il testo che c'è tra la fine del div del tag div e l'inizio del p quindi andiamo a vederlo c'è questo text che però non mi fa aprire vabbè sfortunato c'è questo c'è praticamente il testo che in realtà in cui non c'è scritto niente no in cui che c'è prima di p perché non è di seguito il tag quindi se io avessi messo di seguito il tag proviamo a farlo quindi mettiamolo di seguito ok adesso lo metto di seguito e ricarico di nuovo quindi in questo div chain notes adesso sono tre il primo text non c'è più cioè nel momento in cui il DOM il browser fa il parsing nel DOM appaiono tutti i tag ma anche tutti gli elementi di testo e bisogna sempre tenerne conto a seconda del diciamo del sistema che si usa per accedere ai vari figli se io uso c'è i notes nei notes ci sono anche gli elementi di testo se uso il children ecco nel children non ci sono gli elementi di testo ci sono solo i tag quindi forse facevo prima scrivere children di uno possiamo provare facciamo pure children di uno come vedete basta solo un po' di pratica no io sto cercando di improvvisare proprio per vedere se per vedere qualcosa da un lato che non funziona ma anche come aggiustarlo quindi arriviamo qui div children dovrebbe essere appunto l'uno il secondo quel p che non c'è vedete che viene visualizzato quello in giallo e adesso se ci scrivo inner text mi dovrebbe inserire il testo infatti me lo inserisce poi vabbè c'è il debug e gli dico di andare avanti e me l'ha inserito ok quindi ecco una cosa che forse sulle slide non abbiamo sottolineato abbastanza che volevamo un pochettino tagliare quest'anno però vale la pena probabilmente di tornarci sopra mettiamola a pieno schermo e che quella gerarchia che abbiamo visto dunque DOM era prima ecco in questa gerarchia ci sono i nodi che sono generici e sono o testo o elementi html se io ragiono con i metodi che si chiamano child nodes mi da tutti inclusi text se io ragiono con gli elementi diciamo con i metodi che mi parlano solo degli elementi che non sempre c'è scritto come per esempio in children non c'è scritto non c'è scritto child element anziché c'è il nodes mi dà solo gli elementi html e di solito non vado a modificare quel testo che spesso è vuoto come abbiamo visto e praticamente c'è solo un po' di spazio e degli akpi più che altro per formattare bene l'html per renderlo reggibile a noi programmatori quindi c'è da fare un po' attenzione a queste cose nel momento in cui abbiamo una node list è un po' diversa dall'avere un element list abbiamo tolto la slide quest'anno forse non è stata un'ideona ok quindi io direi che abbiamo visto tutto visto allora farei un po' di pausa quindi chiudo la sessione come sempre la riapro subito il tempo tecnico di riaprirla e dopo parliamo degli eventi e quindi facciamo un po' di prove con gli eventi e se ci resta tempo parliamo di del dis in javascript ok grazie e tra un istante